Ciao amici di MyFootballGersey, oggi con voi voglio fare un gioco, provare a vedere fino ad oggi quelle che sono, secondo me, e voi mi confermerete, le maglie più belle per la stagione 2022-2023. Mi ho già recensito una trentina, quindi un po' inizio a farmi le idee. Ma partiamo con ordine. Allora, in quinta posizione, a mio avviso, una delle più belle è la maglia home della Juventus. Semplice, devo dirvi che all'inizio non l'avevo apprezzata troppo, ma con questo motivo che ha nella striscia nera, devo dirvi che è molto bella, molto particolare. Peraltro, era difficile rendere bella una maglia bianca e nera, solo in due colori, e secondo me ci sono riusciti alla grande. In quarta posizione c'è la maglia da trasferta del Manchester United. Anche questa è una maglia semplice, bianca, ma con rifiniture rosse e nere, molto molto bella, elegante. Mi piace tanto, sulla spalla, vedete qui di fianco, il fatto che le stripes siano di due colori diversi, danno quel tocco di particolare. In terza posizione c'è la maglia home del San Paolo. Una squadra non conosciutissima, che riporta sempre i colori bianco, rosso e neri, probabilmente io ho un debole per questi colori, ma veramente molto bella. Con collo a V, vedete. E il particolare, che non so se si riesce a notare, ma eventualmente andate a vedere la recensione che trovate sul canale, è che nelle strisce rosse e nere sono riportati tutti i paesi sudamericani. Una chicca veramente, veramente molto bella. Arriviamo alle due prime posizioni e qui sono stato molto indeciso. Allora, in seconda posizione è la maglia A-Way, quindi da trasferta, dell'Ajax. Secondo me è stupenda. Un abbinamento, come vedete, degli abbinamenti colori fantastici, con questo blu, questo rosso, questo accento color oro. Io adoro le maglie scure, peraltro l'Ajax ne fa ogni anno di stupende. E questa qui, secondo me, per il momento è in posizione numero due, anche se ero molto tentato di portarla in prima posizione. Arriviamo poi alla prima posizione, e questa riesco a mostrarvela. È la maglia da trasferta dell'Arsenal, che vedete anche qui di fianco. Questa è stupenda. Grigio scuro, con questo motivo che ha le lettere dell'Arsenal Football Club, e con queste rifiniture in questo colore oro metallizzato. Veramente bellissima. In questo momento è la mia preferita. Poi mi direte voi, nei commenti, se siete d'accordo o cosa ne pensate. Ora, dopo aver fatto questo giochino insieme a voi, prima di lasciarvi, come al solito, vi chiedo di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Se peraltro ci sono maglie che ancora non ho mostrato, che vi piacerebbe vedere, e soprattutto se condividete o meno la classifica che ho fatto. Ribadisco, è personale, è un gioco, quindi che nessuno se la prenda. Per oggi è tutto, ciao!